Questo quadro si intitola Amici ed è stato realizzato dall'artista russo Konstantin Makovsky nel 1895. E' parecchio improbabile che chi sta guardando questo video riconosca quest'opera, dato che sia quest'ultima che l'artista stesso non sono molto conosciuti. Tuttavia il mio regalo per questo Natale a distanza, forse in questo caso è meglio dire Epifania a distanza. Vuole essere dedicato a tutti coloro che in questo periodo di lockdown, che ormai dura da quasi un anno, hanno sentito profondamente la mancanza di momenti come quello raffigurato in questo dipinto. Infatti vediamo due amici, che probabilmente si conoscono da molti anni, seduti l'una a fianco all'altro, che si stanno godendo la compagnia reciproca anche senza parlare, ascoltando la musica string pesata sulla chitarra da uno dei due. Ecco, a me questa scena ha ricordato tanti momenti in compagnia di miei amici, quando ridevamo e suonavamo insieme, e soprattutto i tanti giorni passati a scuola, cinque anni, insieme ai miei compagni di classe, quando durante gli intervalli si poteva suonare e cantare. Ho infatti scelto di regalare, tra virgolette, questo quadro più precisamente alla quinta P, poiché spero che, anche se dopo la maturità le nostre strade si divideranno inevitabilmente, non ci perderemo di vista. E tra tanti anni, persino forse all'età dei protagonisti di questo dipinto, potremmo ancora condividere dei momenti simili. E allora forse rideremo ripensando a questo video. Grazie a tutti.